Mi sono consultato col medico personale di Obama. Sono andato con un aereo privato a mie spese a fare propaganda per il no in America. Renzi è partito con l'aereo di Stato e due nullatenenti come Benigni e Armani. Io sono andato a mie spese, ho incontrato di notte Obama e quasi non l'ho visto e lui mi ha fatto parlare col suo medico personale, il quale mi ha detto che per mantenersi giovani la cosa fondamentale è fare impacchi di fica. Fate impacchi di fica, firmate Obama.